luca io dico una cosa non pensavo fossi così generoso cioè tu fai beneficenza alla grande nei confronti di ragazzi soprattutto uno che conosciamo benissimo ragazzo molto dolce amabile educato ma padel veramente lo nomi tu stefano grandis cosa che mi ha comunque favorevolmente impressionato è la la garra che ci ha messo no si è scorticato a parte il ginocchio anche tutto il un inocchio e un inocchio cioè praticamente neanche nelle risse neanche nelle risse succede questo fortunatamente non si fanno ma però dico ma come ha fatto a scorticarsi tutto era fermo ma è chiaro che avranno preso in giro a me che sono stato certamente il peggiore in campo però intanto ho dato il sangue primo e secondo luogo una questione di carattere io me la faccio sotto e quindi gioco peggio di come giocare normalmente pur non essendo un forte giocatore così si fa come come on lads ciao ciao a tutti